Ciao a tutti, sono Giulio del Centro Giovanile, il coordinatore del Trofacità di Prato per le attività del Centro Giovanile. Sono qui, sto entrando nelle vostre case, nei vostri cellulare, nei vostri social per mandarvi un messaggio molto semplice. Noi del Centro Giovanile abbiamo pensato come si potrebbe fare a continuare a fare un po' di attività motoria all'interno delle case. Io sono a casa, fermo come lo siete tutti voi, aspettando buone notizie, aspettando la possibilità di uscire, anzi io mi auguro che tutti voi state bene e che tutto prosegua per il meglio. Allora, dicevamo, che cosa potremmo fare noi? Noi abbiamo un'idea semplice, mica tanto complicata, abbiamo pensato di chiamarla Game Open. Trofacità di Prato, gioco aperto. In che cosa consiste? Ogni martedì e ogni venerdì un educatore del Centro Giovanile lancerà un video, lancerà un challenger dove prima di tutto spiegherà come costruirsi un attrezzo sportivo utilizzando cose molto semplici, cose che si possono trovare in casa, barattoli, pezzi di carta, di cartone, un piccolo art attacco insomma, per costruirsi un attrezzo sportivo. Una volta costruito questo attrezzo sportivo l'educatore ci farà vedere come si può utilizzare questo attrezzo sportivo per cui ci proporrà un gioco. A voi la possibilità, uno, di rifare subito questo gioco con voi, con i vostri genitori, con i vostri fratelli, chi ce l'ha anche con il cane e una volta provato questo gioco e provato e realizzato questo attrezzo inventare voi a vostra volta un gioco per utilizzare questo attrezzo. E una volta inventato il nuovo gioco, una volta realizzato questo nuovo attrezzo vi si chiede di riprendervi, di farvi riprendere, farvi aiutare da fratelli e genitori e spiegare a tutti noi che gioco avete inventato. A quel punto ho fatto questo piccolo piccolo video di un minuto, non di più, vi si chiede di rilanciarlo attraverso i canali social e gli hashtag che troverete nelle indicazioni qui accanto a me sul sito ufficiale perché è importante se non ci sono questa parolina particolare, l'hashtag, non si riesce più a recuperare il video che voi avete fatto, mettete il video e lo rilanciate nel lettere. Verrà ripreso e diventerà strumento di gioco per tutti quelli che andranno a vederlo e che vorranno provarlo. Questo tutti, i martedì e i venerdì. Per quanto dovremo rimanere qui chiusi in casa purtroppo. Ma quando tutto sarà finito, una cosa ve la promettiamo, facciamo una grande festa, facciamo una festa dove ci si può toccare, dove si può giocare veramente, però tutti questi video li mettiamo assieme e facciamo una mega proiezione finale. Grazie e state bene. TCP. Game Open. È importante l'hashtag. Adesso, fallo tu.